Martina Guiggi, quando si entra in campo anche solo per un punto, ma quel punto cade, che soddisfazione c'è? Tantissima, perché lo sanno tutti che è difficile entrare, riuscirò a fare anche un punto, quindi oggi ci abbiamo provato su 3-7 ogni volta che sono entrata e per fortuna alla fine è arrivato, è sempre una bella soddisfazione, perché comunque sai che devi entrare per fare quella cosa lì, in quel momento la fai, quindi sai che sei da aiuto, per la squadra. Come si vive dalla panchina una rimonta come quella del secondo 7, che unità c'è anche tra tutte voi? Sicuramente è stato bellissimo, perché lì si è vista la vera forza della squadra, che si è unita, ha iniziato a sbagliare meno, a essere lucida, noi per quello che si può sentire dalla panchina incitiamo sempre, cerchiamo di aiutare, quando ci sono i time out, se vediamo qualcosa dall'esterno andiamo a dirlo alle nostre compagnie per cercare di dare una mano, quindi per quello siamo molto unite e oggi è andata bene così, con questa bellissima rimonta.